Però voglio anche ricordare che il 9 ottobre 2014, ricordo bene le dichiarazioni di Renzi e Alfano che venivano a festeggiare in Italia dicendo finalmente l'Europa risponde, parte Triton, che bello tutto sarà risolto. Lo ricordo bene e non accetto che se critico, anche in modo aspro e duro, mettendo la responsabilità del governo sotto gli occhi di tutti, anche utilizzando parole forti, dico su uno sciacallo, rispondano sulle loro responsabilità.